ma il melino ma questo ci vuole una lente di ingrandimento per vedere questo tra due mesi questo strabico john dimmi se sono lì eh mi raccomando salì wow mamma di sol e che fai bianchi oh 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 ah 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 oh ah i ah Sono tornato due ogni un jack John? O che è il ruo? SORRY A il sere 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Facciamolo sui tutti. Penso io. Ma fai, 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 io, io, guardatemi. I comandi sono questi. Ok, vado io, vado io, vado io. Vai, fai. Non l'ho visto o no? Non l'ho visto, non l'ho visto. Doh no jump Doh no jump Che cosa fai da 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 Che fai da 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 dai da cristiano che fai bene bella quest'uomo è vittima di un fantasma che ogni notte si manifesta per tormentarlo perciò lo spinturato ha deciso di registrare con una videocamera tutti gli eventi che si verificano attorno a lui è l'una e mezza del mattino l'uomo si mette a letto e prova a prendere solo improvvisamente la luce del bagno si accende prende la videocamera decide di entrare in bagno e riprendere tutto è un mio no 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 Grazie a tutti.